Ragazzi, volevamo soltanto mandarvi sto video perché in questo momento siamo in giro con il cabrio E eccoci qua Eh sì, in questo momento siamo proprio in un posto brutto Brutto brutto, mamma mia ragazzi, brutto brutto, io non so neanche se si vede Però è, eh vabbè Eh insomma questo è quanto perché noi siamo al mare e voi no Ehi, eccoci qua ragazzi Questo era giusto per ribadire in questo momento dove siamo Ecco qua, ecco qua Vai gira 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 Bene, detto questo A dopo Ciao ragazzi Ciao Piu Wow, bella ragazzi E in questo momento facciamo sul tuk tuk Ciao Stiamo partendo Via Bella a tutti ragazzi Allora in questo momento si ha fermato la polizia Si ha fermato Ehm Pau Ma chissà che cosa succederà Vabbè Io prima che ci arrestano e ci portano dentro nelle prigioni malgacce Vi saluto Addio Bella ragazzi Bella a tutti ragazzi In questo momento siamo al mercato di Elville Come potete vedere E questa è una parte del mercato E poi andiamo a vedere Ehm Tutto il resto Allora in questo momento Siamo Albert ma ragazzi gli odori sono veramente indescrivibili c'è proprio il profumo di chan di chanella io penso di uscire di qua qua, proprio qua e se lo riusciamo saluta a Zebru bene ragazzi in questo momento invece siamo in giro per il bill e stiamo per comprare una bacinella una bacinella voglio questa blu? come la vuoi? rossa? verde? questi sono problemi blu? bella a tutti ragazzi in questo momento siamo al negozio di afipa ah il negozio è la parolaccia? la fifa come mai si chiama la parolaccia? piacere di mandare famiglia ecco questa è la spiegazione vabbè niente ci vediamo dopo ci saluto ciao grazie vostri è terminata la giornata stiamo rientrando siamo sempre con la nostra macchina supercabio e quindi niente da parte mia da parte di Elisa è tutto e da parte di Patrick è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale commentate lasciate uno small incensore ci vediamo al prossimo video bella ragazzi e boom baby ciao 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 ciao